ma cazzo poi il top una volta in portogallo c'era questa specie di kebapperia vedi noi cioè maraself mi guardo più che altro aveva preso il kebapp la è piena di barboni ma in maniera allucinante vedi sto tipo ma sconosciuto si ferma e gli fa oh ma me ne dai un pezzo posso dargli un morso ma la serpa che gli fa? no no non ti do un cazzo e quello figa gli si è attaccato figa ha iniziato a fare sempre che si girava e lui cercava di buoni prezzi figa alla fine ma la serpa gli ha dovuto dare perché era un'altra resistente che ti va a fare un po' del cazzo ma anche un'altra volta stavamo camminando per lisbona arriva sto negro qua gli prende il cappello e gli fa oh amico gli ha detto buono migliore picchini qua però c'era quello amico un attimo un attimo e poi c'era tipo il cappellino vedi come si faccia il cappellino stavarro si è messo lì ed è stato agli amici si è messo in testa e ha iniziato tipo a tipo a bovoreggiarsi così e si vedeva tipo a fare tutte le pace figa era pieno di ritardati nel paese ma te l'ha ridato almeno il cappellino non sarei ancora no poi è ritornato come sempre prendersi grazie 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 grazie